Sta prendendo forma il ponte ciclopedonale sul Foglia, una grande opera infrastrutturale che punterà sulla mobilità dolce costruendo un inedito collegamento diretto fra il quartiere pesarese della Tombaccia e il centro storico passando per l'area di via dell'Acquedotto e della stazione ferroviaria. Ponte in costruzione che vedete alle mie spalle e che andrà ad unire l'area in cui ci troviamo, quella del Parco 25 Aprile, spazio verde di fatto limitrofo al Miralfiore e alla stessa via dell'Acquedotto col quartiere della Tombaccia, in particolare con la zona di via del Carso. Il comune ha infatti affidato il cantiere alla ditta Nasoni di Fano che sta realizzando un ponte con un investimento di 3 milioni di euro ottenuto attraverso fondi delle bando periferie che ha già contribuito a trasformare un'area ex degradata come quella di via dell'Acquedotto che negli anni ha visto pezzo dopo pezzo nascere un teatro, il nuovo bocciodromo, la pista da skateboard e quella da pump track. Il ponte che sarà affiancato all'attuale viadotto ferroviario sarà dunque attraversabile da pedoni, ciclisti e da mezzi d'emergenza. Si tratta di una infrastruttura che ha cominciato a prendere forma già nelle 2022 e poi dopo diversi ritardi ora il cantiere procede spedito anche con la prospettiva di poter arrivare ad una inaugurazione nel prossimo mese di settembre.